bella a tutti ragazzi bentornati sul mio canale in questo video di oggi andiamo ad affrontare il secondo tutorial su come si fa un remix e parliamo del tempo del vocal ad esempio se noi avessimo una canzone che ha un vocal che va a 78 bpm e vogliamo fare un remix che invece va a 128 bpm come affrontiamo la situazione quali sono le problematiche a cui andiamo incontro andiamo subito a vederlo ve lo dico subito ragazzi non utilizzerò un vocal qua poiché non ho disponibilità di vocal a 78 bpm e non voglio utilizzare vocal di canzoni con copyright perché sarebbe inutile caricare il video perché dopo 5 minuti tanto youtube per motivi proprio di copyright lo va a togliere quindi voi non avete nemmeno una minima spiegazione quindi tanto vale farlo teorico io cercherò di essere il più chiaro possibile allora abbiamo un vocal a 78 bpm se noi lo volessimo portare a 128 bpm dovremmo fare 78 88 10 98 20 108 30 118 40 128 50 ovvero 50 bpm di stretching che cos'è lo stretching è l'allungamento l'allungamento della nostra traccia audio per metterla a tempo con il tempo che noi vogliamo raggiungere quindi da 78 vogliamo passare a 128 bpm allora questi tipi di stretching così estremi non funzionano rendono il lavoro diciamo brutto inascoltabile e diciamo illegale a livello di remix scusate ragazzi un po' di mal di cola e niente quindi praticamente dobbiamo trovare una soluzione alternativa da 78 a 128 come abbiamo detto passano 50 bpm da 78 invece a 64 passano solamente 14 bpm quindi quel tipo di stretching è possibile vostra domanda sarà che cosa c'entra adesso 64 bpm se io voglio fare un remix a 128 ragazzi c'entra perché 64 è esattamente la metà di 128 quindi che cosa devo andare a fare se prima in una traccia 128 bpm io avessi scritto il mio kick in questo modo nel momento in cui porto la mia traccia a 64 bpm che è esattamente la metà vado a scrivere il mio kick e vado a scriverlo invece che in quattro quarti ovvero ogni quarto vado a scrivere un kick vado a raddoppiare i kick ovvero scrivo il mio kick ogni mezzo ogni un mezzo ovvero ogni due bar all'interno della mia playlist andiamo a sentire prima facciamo una cosa nessun tempo in modo che suonerà sempre uguale eccolo qua basterà raddoppiare il kick rispetto alle battute precedenti e pur stando con un vocal a 64 bpm ovvero che ci ha permesso di fare uno stretching come ricordo da 78 a 64 quindi di soli 14 bpm abbiamo comunque il nostro kick a 128 bpm perché è come fare 64 per 2 quindi in ogni 64 abbiamo due kick invece dell'un quarto di prima cioè prima la nostra situazione era esattamente questa siccome ad 64 bpm ci andiamo a muovere alla metà del tempo abbiamo bisogno di dover raddoppiare la quantità di kick mentre a 128 che ci muoviamo invece al doppio del tempo rispetto a 64 andiamo invece a dimezzare il kick quindi questa configurazione qui a 128 è identica con questa a 64 ragazzi ovviamente viene da sé che se io volessi fare uno stretching a 130 bpm mi vado a prendere la metà di 130 ovvero 65 e così via quindi quando se il vostro vocal è a 110 bpm dovete portarlo a 128 uno stretching di 18 è fattibile se il vostro vocal invece ha velocità bassissime tipo una LO di Adele avete bisogno di fare queste tipologie di stretching ovvero di andare a dimezzare il tempo del vostro remix ovvero decidete che farete una traccia di Adele e lo a 125 bpm andremo quindi a prendere il vocal di Hello che ne so che magari starà intorno ai 78 bpm da 78 a 125 passa comunque un abisso quindi dovrete fare 125 diviso 2 che è 62,5 62,5 sarà il tempo del vostro remix e dovete raddoppiare i kick come ho fatto io qui ragazzi mi dispiace di non avere vocal a disposizione io spero comunque di essere stato il più chiaro possibile ci vediamo sempre sul mio canale per un secondo video di oggi che tratterà un altro argomento sempre inerente ai remix e come dicevo non avendo un vocal a disposizione spero di essere stato il più chiaro possibile se così fosse questo video vi fosse piaciuto così tanto allora lasciate un bel pollicione in su soprattutto se vi sono stati utili se questo video non vi è piaciuto cerchiate il tempo all'orologio della vostra cucina e lasciate un pollicione in giù e scrivete un commentino perché il video non vi è piaciuto oltre questo vi invito a condividere questo video con tutti i vostri amici che fanno remix e soprattutto vi invito ad iscrivervi al mio canale per i prossimi e futuri video e io con questo vi saluto vi invito a scrivere un commento qua sotto con ulteriori domande, chiarimenti o tutto quello che non vi è stato chiaro noi ci vediamo in un prossimo video a fra poco bella a tutti ragazzi buon divertimento su FL Studio 12 ciao